In questo momento stiamo respirando un po' d'aria fresca, nel senso che nelle fabbriche si sta lavorando perché sentiamo il colpo di coda della fine del motore endotermico, delle ultime produzioni, ma è evidente che a breve le cose cambieranno. Anche risentiremo di questa discesa che sta vivendo la Germania dal punto di vista industriale che arriverà inesorabile anche nel nostro territorio. Noi siamo molto legati alla Germania e siamo poco legati in questo caso a Stellantis, una percentuale sicuramente inferiore. Ecco, quello che noi ovviamente chiediamo è non soltanto di fare un'analisi, ma di condividere quelli che sono gli obiettivi, cioè provare a condividere gli obiettivi per fare fronte comune ed approcciarci a questo cambiamento in modo preparato. Come? Con la formazione innanzitutto, cercando di creare opportunità e lavoro stabile, quello che ci interessa di più, quindi combattendo la precarietà. Purtroppo i lavoratori in somministrazione sono quelli che risentono da subito della discesa del mercato e quindi questo non lo possiamo permettere, ma anche con le infrastrutture. Noi abbiamo le due zone industriali di Sant'Atto e di Villa Zaccheo, che in questo momento sono zone purtroppo abbandonate. È evidente che c'è necessità di investire sul territorio. Lo chiederemo ovviamente a Savini, al presidente dell'Arap, per capire se ci sono delle possibilità, dei fondi per consentire a quella zona di essere una zona anche appetibile da un certo punto di vista. Insomma, non c'è l'illuminazione, l'unica zona industriale, quella che si chiama Valle del Tubo, dove noi abbiamo fatto anche una manifestazione come FIOM e FIM, non ha la luce, non ci sono delle rotonde, non ci sono i parcheggi per i lavoratori, ma la cosa ancora più grave è che le nostre aree industriali, a differenza di tutte quelle altre della provincia, se pensiamo anche soprattutto a quella di Chieti, non è fornita di trasporto pubblico urbano. Questo, insomma, purtroppo è evidente che ci pone a qualche interrogativo. Quindi, ecco, innanzitutto oggi condividere gli obiettivi, cercare di uscire anche con un documento per evitare che siano soltanto parole al vento e portare avanti degli obiettivi insieme con la determinazione di chi vuole salvaguardare la ricchezza di questo territorio.